Le attività del PON sono state realizzate sulle regioni dell'Italia meridionale, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, con l'intento di fare un'analisi dei rischi idrogeologico, sismico e vulcanico di questi territori, di fare un'analisi dei fabbisogni e rendere ottimale e performante la spesa per la riduzione dei rischi. È un progetto che ha realizzato un'intesa istituzionale, ha valorizzato la capacità e rafforzato la capacità operativa territoriale e quindi, come dire, ha realizzato una vera e propria esercitazione di prevenzione di protezione civile. Nell'ambito del workshop, che si terrà il 24 e 25 gennaio prossimi, ci confronteremo con tutte le regioni e non soltanto con quelle che già fanno parte del programma PON Governance. Durante il confronto avremo modo di affrontare i temi legati alla definizione dei contesti territoriali per poter estendere gli ottimi risultati già raggiunti nell'ambito del programma a quelli che saranno gli ambiti ottimali secondo il nuovo codice e la definizione della nuova pianificazione di protezione civile.